Se l'intento era quello di raccontare e lasciare un segno profondo, Spacca ossa di Vincenzo Pirrotta è una missione perfettamente compiuta. Un lungometraggio intenso, quello presentato alla Mostra del Cinema di Venezia alle giornate degli autori, che racconta una storia vera ambientata a Palermo, in retroscena di una truffa sulle assicurazioni messa a segno qualche anno fa attraverso dei finti incidenti organizzati dalla mafia ai danni di persone fragili e disperate, disposte letteralmente a farsi spaccare le ossa per intascare una minima parte del premio assicurativo. Sentivo che il pugno allo stomaco che avevo subito e ricevuto io quella mattina quando ho ascoltato al radiogiornale questa notizia, questo pugno allo stomaco fosse urgente da raccontare, perché è una cosa che fa male, ma come tutte le cose che fanno male si possono curare. In questo caso il cinema può essere un mezzo, uno strumento per cercare di vincere o di espellere certe metastasi. Un film che è cronaca, ma che mette in luce contemporaneamente debolezze, sentimenti e storture nei legami di ogni singolo protagonista. È un personaggio che ho amato tantissimo, l'ho sempre vista Luisa come un piccolo animale selvaggio da proteggere. anche tutta la corazza che è addosso, quindi gli orecchini, questo stile molto dark, questo trucco molto pesante, in qualche modo una seconda pelle. L'abbiamo pensata proprio come una seconda pelle da costruire addosso a Luisa per proteggersi in qualche modo da questo mondo ostile. Alla fine diciamo sempre che il film è come l'anguria, cioè tu quando lo tagli e lo assaggi sai se è buono o meno, è inutile che bussi per sentire, no? Quindi in questo caso devo dire che è un bellissimo film che sembra narrare di questa vicenda di cronaca, ma in effetti parla di noi stessi, di quanto siamo disposti a farci mutilare per raggiungere i nostri obiettivi. Ogni volta che decidiamo di scendere ad un compromesso, di perdere un pizzico della nostra dignità per fare qualcosa che è il nostro obiettivo, comunque ci facciamo mutilare una parte di noi. Ed è questo, credo, che susciti l'empatia di chi lo vede. Grazie a tutti.